Hanno fatto irruzione in un'abitazione di Bibiena che da Tempo stavano monitorando. Una volta dentro i carabinieri hanno trovato due uomini intenti a preparare dosi di eroina da smerciare poi ai clienti. Così si è conclusa un'operazione dei militari del nucleo investigativo del comando provinciale. I carabinieri da Tempo avevano individuato alcune abitazioni supponendo che venissero utilizzate per il confezionamento e la cessione di droghe. Così dopo gli appostamenti è scattato il blitz. I due alla vista dei militari hanno tentato di nascondere lo stupefacente ma l'immediata perquisizione ha permesso di recuperare circa 40 grammi di eroina e poco più di un grammo di hashish. Sono così scattate le manette per i due che sono comparsi di fronte al giudice del Tribunale di Arezzo che ha convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Arezzo in attesa del processo. Sotto sequestro anche un bilancino ed oltre 6.000 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio. Sempre nell'ambito dei servizi preventivi di contrasto ai reati predatori e più in generale alla criminalità diffusa che hanno visto impegnati in tutto 20 militari sono state arrestate anche altre due persone. Un trentenne a Montevarchi in base ad un ordine di carcerazione e ad Arezzo un 35enne anche lui destinatario di un provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria per furto, rapina e reati contro la persona e pubblici ufficiali. Grazie. Grazie.